Torna questo pomeriggio la ZTL nel centro storico di Sciacca, strade chiuse al transito veicolare oggi e domani dalle 17 alle 20 e 30 e domenica mattina dalle 10 alle 13. Si tornerà quindi a poter respirare l'atmosfera natalizia e non lo smog per le vie del centro. Contestualmente riprenderà anche l'attivazione del servizio di bus navetta dal piazzale di Gaia di Garaffe e dalle terme. Ci sarà anche il trenino elettrico della cooperativa Eternal, ZTL che tornerà ad essere ripristinata poi a gennaio, il 4, il 5 e il 6 agli stessi orari. Tra le vie e i vicoli del cuore di Sciacca saranno le antiche serenate notturne da lietare passanti con canti natalizi e continueranno a susseguirsi le iniziative proposte dal comune. Ieri in una rinnovata sala Blasco si è tenuto Natale in casa Pirandello, un omaggio al premio Nobel Agrigentino. Con lo sfondo scenografico dei dipinti dell'artista Lucia Stefanetti, Raimondo Moncata ha dato voce alle opere in cui Luigi Pirandello ha raccontato i riti, le osanze, i sentimenti e le atmosfere legate al Natale. Scritti, presentati e introdotti dall'assessore Gisella Mondino. Un'iniziativa che ha attirato la curiosità e l'attenzione di diversi saccensi amanti della letteratura. Ma Sciacca Natale insieme non manca di coinvolgere anche i più piccoli. Questo pomeriggio, dalle 17 alle 19, si terrà nei locali di Palazzo Lazzarini, nell'ex Istituto Sant'Anna, un'iniziativa promossa dall'assessorato alla cultura in collaborazione con la biblioteca comunale Aurelio Cassar. Le animatrici del gruppo Flashbook daranno vita a storie con letture ad alta voce e a un laboratorio creativo rivolte ai bambini dai 3 ai 6 anni. L'ingresso è libero e gratuito. È in programma invece per sabato 29 dicembre presso i locali della parrocchia Beata Maria Vergine di Loreto, incontrata per Riera, con inizio alle ore 20 e 45, l'ormai consueta tombola di beneficenza organizzata dall'Associazione Orazio Capurra Amore per la Vita Onlus. Grazie alla tombola, l'Associazione conta di raccogliere dei fondi per realizzare, nel corso dell'anno, numerose iniziative benefiche di utilità sociale. I biglietti sono disponibili in prevendita presso l'ufficio turistico del Comune di Sciacca.